ragazzi non vi preoccupate ho appena verificato che la diretta di prima non si è cancellata fortunatamente meno male e quindi stavo dicendo stavo parlando della full immersion vi stavo parlando del fatto che durante la full immersion avete la possibilità di sperimentare tutti quanti gli strumenti di libera letto parole e poi ovviamente decidere con questi strumenti se iniziare o meno il percorso di libera letto parole perché troppo ma troppo importante sperimentare quindi ragazzi sperimentate veramente non vedo l'ora di cominciare a lavorare con tutti i ragazzi che si sono iscritti sono veramente felicissimo di questo ve lo dico non sarà facile perché vi farò un mazzo così perché vi farò allenare tantissimo ma sarà veramente bellissimo perché la libertà che potrete percepire nel dire tutto quanto quello che volete è veramente impagabile e innanzitutto ve la auguro tantissimo e soprattutto vi dico che non vedo l'ora di incominciare ok ragazzi noi intanto ci sentiamo nel gruppo per le persone che fanno parte del gruppo per chi non fa parte del gruppo ragazzi entrate nel gruppo non fate gli antipatici veramente entrate perché qui è collegata anche l'amministratrice del gruppo amministratrice dici quanto è figo far parte del gruppo e quanto è divertente ho messo anche una casistica dei risultati sulla balbuzia oggi è da nel gruppo e veditela perché è una casistica importantissima che mi fa un poco il punto della situazione sulla situazione dei risultati dei corsi sulla balbuzia in italia quindi guardatela e fatemi sapere che cosa ne pensate io intanto vi auguro una bellissima settimana anzi un bellissimo fine settimana divertitevi voi che potete andate a mare perché io non posso quindi buon fine settimana ciao ragazzi